I told you Signori, benvenuti al Bolsar! E stanotte ho il piacere di darvi il bentornato all'interno del club E suonate a questo momento Mi serve Mattia Trolli Il piano è un bravo Ma ci sono Ma ci sono Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 e a tutti! Grazie a tutti! e a tutti! Grazie a tutti! a tutti! Grazie a tutti! e 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 a tutti!